Tornano a far sentire la loro voce gli ex lavoratori dell'indotto di Gela. Questa mattina uno striscione e un manifesto che cita anche la carta costituzionale sono stati collocati dinanzi all'ingresso di palazzo di città dai lavoratori stanchi, demotivati ed esasperati da una crisi che non cessa di imperversare. Ci sono mutui da pagare, figli da mantenere, c'è una vita che scorre e i lavoratori chiedono di poterla vivere dignitosamente. Fanno appello ancora una volta alla politica. Essendo disoccupato già da aprile 2015 chiedendo aiuto anche alle istituzioni, agli organi, anche perché da cittadino onesto, che ce ne siamo cittadini onesti a Gela, io ho chiesto più volte diciamo quello che devo fare. Ripeto, questo è un altro tentativo che mi rivolgo appunto sia al governatore che in particolar modo è quello che dovrebbe in un certo modo tutelare i cittadini gelesi. È il presidente del consiglio perché io preferisco fare una protesta democratica pulita che andare a fare proteste che possono essere controproducente per la democrazia stessa. Sono uscito dalla raffineria nel 2005 e poi ho lavorato al tribunale di Gela come nuova costruzione. Però ripeto, qua oggi la disoccupazione che allarma e io da padre di famiglia, avendo tre figli a carico, devo tutelare i miei figli. Non posso stare inerte o aspettando che scenda chissà che cosa. È il mio dovere da padre appunto cercare di far qualcosa. Ho cercato di sopravvivere andando a disturbare fino a quando c'era mio padre vivo perché non mi nascondo, mi ha anche sostenuto mio padre. Poi anche la Chiesa perché più volte ho sempre rivendicato il fatto che la Chiesa è molto vicina a questa situazione e grazie anche al nostro Vescovo e a tutta la Chiesa di per sé che non ci ha mai abbandonati. E questo è da dare un grande elogio perché dà anche quella speranza in più di poter anche combattere, resistere e sopravvivere nello stesso tempo. Siamo tutto l'inderendotto che sta protestando, non siamo tanta gente che stiamo protestando. Le striscione qua dietro col cartellone parlano chiaro, ci sarebbe pochissimo da dire però in verità c'è tanto da dire. Io ripeto e ribatto sempre che qua Gela e si dovrebbe stare bene perché c'è la raffineria che dà un bel po' di soldi. Parliamo sempre di compensazioni, parliamo pure delle royalties, i soldi sono veramente tanti. Non riesco a capire, non riusciamo tutti a capire il perché questa città non inizia a decollare perché i lavori che ci sarebbero da fare in questa città sono veramente tanti, iniziando dall'edilizia, dalle strade, alle spiagge, al giardinaggio, insomma non dovrei essere io a dirlo, dobbiamo tutti capirlo. Quindi noi ora ci stringiamo tutti, tutta l'intera città per cercare di dare una scossa a questo territorio e per cercare di dare veramente figura positiva alla città di Gela perché siamo dimenticati da tutti, da tutti veramente.